Palla nuoto all'Ortigia, rullo compressore, stenda anche ai serbi del Valis, 9 a 14. L'Ortigia fa 3 su 3 e batte anche il Valis al termine di una partita difficile ed equilibrata, almeno per due tempi e mezzo, oltre che molto fisica e spigolosa. In avvio le due squadre che ribattono colpo su colpo con i serbi che sfruttano subito la prima superiorità della partita e l'Ortigia che risponde con una conclusione potente e angolata di Ferrero. Il rigore di Bursac, l'azione solitaria di Luciano, il gol di Mitrovic in superiorità e quello di Andrea Condemi dal lato cattivo mantengono il risultato in parità. A 27 secondi dal termine però viene fiscato un altro rigore a favore del Valis che Radanovic trasforma per il 4 a 3. La gara è molto dura, gli arbitri inizialmente sono un po' troppo fiscali con l'Ortigia che però non si innervosisce, difende meglio e riparte. A secondo tempo in pochi minuti Rossi, Ferrero e Ciccio Condemi costruiscono pareggio, sorpasso e più due, ma il Valis prima accorcia in superiorità con Almasi e poi trova il pari con Baucalo. Ci pensa allora Ferrero a realizzare il 7 a 6 con cui si va a riposo a metà gara. In avvia di terzo tempo, botta e risposta Napolitano posmuga, entrambi a segno in superiorità, quindi è Velkic a metà parziale a riportare Biancoverdi a più due. Il Valis prova a reagire ma Bursac spreca dai 5 metri e sul rovesciamento di fronte è ancora Ferrero con l'Om in più a portare l'Ortigia sul 10 a 7. I serbi si innervosiscono mentre i Biancoverdi continuano a giocare trovando il gol numero 11 con Ciccio Condemi. Poco dopo ancora un rigore per il Valis ma Tempesti, ieri sera autore di tante parate decisive, respinge di testa sopra la traversa. Infine i gol di Ferrero e Mitrovic chiudono il terzo parziale sul 12 a 8 per i Biancoverdi. Negli ultimi 8 minuti la squadra dei Piccardo amministra il gioco fino alla fine subendo solo la rete di Baucalo e andando ancora a bersaglio con Vidovic e con il rigore di Ciccio Condemi. Finisce 14 a 9, l'Ortigia guida la classifica a punteggio pieno, 9 punti e questa sera alle 19 disputa l'ultimo impegno contro lo Steau-Bucalest. Se stasera però nella sfida tra i rumeni e lo Zuglo dovesse finire in parità o con la vittoria dei padroni di casa l'Ortigia potrebbe già festeggiare il passaggio agli ottavi.